Cesare Sassolini, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale a Città di Castello, si è appena concluso l'anno 2015, siamo entrati nell'anno 2016, l'anno delle elezioni amministrative che si terranno a primavera inoltrata e tempo di bilanci. Tempo di bilanci per quanto riguarda l'anno che si è appena concluso e tempo di prospettive e magari di cercare idee nuove per l'anno nuovo che è appena iniziato, soprattutto anche in vista della tornata elettorale. Sì, si può fare un bilancio di questi anni che sono stati amministrati per l'ennesima volta da una giunta di sinistra, anche se questa volta è una giunta di sinistra guidata da un socialista piuttosto che dal solito PD. Però c'è da dire che cambia il vertice, ma purtroppo ritengo che la musica non sia cambiata. In effetti Città di Castello, il nostro territorio, non ha fatto passi avanti in questi anni. Anzi, se i cittadini possono ritornare con la mente a cinque anni fa, quattro anni e mezzo fa, sicuramente vedranno che tante situazioni sono peggiorate. Ci sono state infatti tante promesse non mantenute che avevamo anche noi indicato in alcuni casi come fondamentali nella soluzione, ma che effettivamente non sono state portate avanti. Stavo riflettendo proprio stamattina su questi aspetti e mi sono trovato a dover fare un elenco. Ho scritto i punti perché sono talmente tante le cose, le principali logicamente, non realizzate da questa amministrazione che se comincio a fare un'elencazione mnemonica sicuramente ne perdo qualcuna. E infatti, se dovessi dire gli elementi, le principali cose non realizzate, la promessa, vi ricordate, del vecchio ospedale, l'edificio del vecchio ospedale, che doveva essere risistemato in questi anni con la proposte all'inizio megagalattiche di farci università, quindi discussioni in Consiglio Comunale, poi non più idonea. Quindi la possibilità che l'amministrazione comunale prendesse l'edificio e comunque facesse in questo edificio dei spazi adibiti a pubblico uso non è stato fatto. Ad oggi la situazione è sempre quella, ogni tanto ritornano nel giornale la possibilità di utilizzarlo, ma di fatto oggi l'edificio è faticente, cadente, in una situazione di degrado urbano pericoloso, oltre che come immagine molto negativa per la città. Questo è uno dei elementi che l'amministrazione sicuramente non ha ottemperato. Accanto al vecchio ospedale si potrebbe dire due parole anche sul nuovo ospedale, che in questi anni purtroppo, come i cittadini sanno, è stato molto depotenziato. Si è persa l'ASL, gli amministratori non sono più nostri, ma diciamo sono ormai Perugia che è deputata all'organizzazione, e abbiamo perso quindi professionalità, abbiamo perso capacità e purtroppo si sta andando verso una situazione di lento smantellamento, soprattutto di alcuni servizi. Quindi altro elemento negativo che sicuramente non era stato promesso da questi amministratori. Poi c'è un altro aspetto che ha portato voti a questa amministrazione e nella fattispecie al sindaco. Cioè mi ricordo in campagna elettorale di tante promesse fatte per il parazzetto dello sport e per la squadra di pallavolo di Città di Castello. Quindi ci furono anche personaggi legati all'ambito della pallavolo candidati con il sindaco. Quindi promesse molto forti, chiare e specifiche. Ci sono anche amministratori che sono del settore, lavorano col settore pallavolo. Beh, disastro totale. Non solo non è stato fatto il nuovo parazzetto, perché noi dicevamo attenzione, costa molti denari. Parliamo di centinaia e miliardi di euro. Valutate bene se è giusto fare un investimento del genere. Ma attenzione, se si fanno promesse poi le cose vanno realizzate, e il sindaco promesse e soprattutto c'è una squadra da tenere in considerazione e comunque da in qualche modo supportare. Ad oggi non c'è più la possibilità di fare il nuovo parazzetto, perché non ci sono i denari. Non c'è nemmeno la squadra di pallavolo, che come sapete le vicissitudini, San Giustino, San Sepolcro e quindi Città di Castello. Non c'è la principale squadra di pallavolo, ma ho perso pure quella. Altro disastro. Inutile dire, questi sono i fatti. Parliamo poi di un altro elemento, le termine di fontecchio. Si è fatto sì che, se ne è tanto parlato, si dovevano potenziare, il pubblico doveva fare la sua parte. Certo, sono termine private, questo è fuori dubbio, ma il pubblico, in questo caso, essendo le uniche termine vere dell'Umbria, ed essendo stato negli anni passati un fiore all'occhiello per Città di Castello, quanto recettore di molti soggetti anche extra-regione, doveva in qualche modo essere supportata e rilanciata in tutti i modi dall'amministrazione comunale e quindi, dico, anche dalla regione. Bene, ad oggi la situazione, come sappiamo, è molto difficile. L'albergo è chiuso, quindi non si può fare più recettività come un tempo e quello che rimane delle termine funzionanti è in mano, logicamente, al privato. Il pubblico ha fatto solo disastri quando è cercato di intervenire. Quindi anche sotto questo aspetto è stato un fallimento totale. Un altro elemento sbandierato, e i cittadini ricorderanno, la biblioteca comunale. Doveva essere inaugurata più di un anno fa, più volte riportata nei giornali, faremo, vedrete, stupendo, eccetera. Bene, ad oggi la biblioteca comunale non è stata inaugurata, non è stata aperta. La città di Castello non ha una biblioteca comunale, e questo è molto grave per una città importante come la nostra. Dopo nostre sollecitazioni, alla fine è stata aperta una sorta di ridotto di biblioteca comunale, che in realtà, che cosa significa questo? Significa che la biblioteca comunale ancora per molto tempo dovrà rimanere chiusa. Questa è un'onta per l'amministrazione comunale, che tra l'altro ha un contenzioso con le maestranze che hanno lavorato dentro l'edificio. Non sappiamo ancora ad oggi come andrà a finire, perché sono in mano appunto a discussioni anche legali. E quindi altro elemento che i cittadini devono tenere in considerazione. Altro aspetto impressionante, io direi impressionante, su cui i cittadini devono riflettere. Per la prima volta è stata chiusa la ferrovia centrale Umbra a città di Castello. Siamo ritornati veramente in periodi settecenteschi, quando ci doveva recare a Perugia con mezzi propri. Allora c'erano le diligenze, ora ci sono le auto, certamente. Ma non si può fare più riferimento al servizio pubblico. Penso che questo sia stato un grandissimo smacco per la nostra amministrazione comunale. Uno, perché evidentemente Perugia non ci tiene in considerazione. Quindi i nostri rappresentanti non hanno peso specifico a livello regionale. Perché credo che la quarta città dell'Umbria, di fronte a una situazione del genere, se appunto come è avvenuto, non è stata avvisata in tempo. Lo posso dire perché io ho partecipato a una commissione in cui l'amministratore della ferrovia centrale ci aveva detto che c'era da sistemare qualcosa, ma comunque, nonostante che i fondi non ci fossero, le cose sarebbero andate avanti. A rilento, ma avanti, bene, circa due mesi dopo è stata definitivamente chiusa il tratto da Città di Castello a Umbertide. Questo significa non prenderci assolutamente in considerazione, anzi prenderci in giro. Il sindaco sotto questo aspetto è stato molto blando. Lo dico francamente, se io fossi stato il sindaco avrei fatto dei sit-in a Perugia. Mi sarei incatenato davanti alla regione per una situazione del genere. È gravissimo quello che è stato fatto a Tifernati. Forse ancora i cittadini non se ne rendono conto, ma è gravissimo quello che è stato fatto a Tifernati al nostro territorio e il sindaco su questo assolutamente non può tacere e ne dovrà pagare lo scotto, ma non solo il sindaco, anche i suoi amministratori, anche il PD che appoggia il sindaco su questo ha mancato del tutto, il PD locale intendo. Che dire poi di altri aspetti? La piastra logistica che mi ricordo fu presentata dall'assessore al tempo Cecchini, dal sindaco al tempo Cecchini, come ormai pronta, è quasi preparata, è quasi da inaugurare e ancora ad oggi non stiamo invece vedendo. Ma una piastra logistica, cui sono stati già spesi milioni di euro, che comunque sorgerà senza una E78, altra promessa non mantenuta che ancora oggi non esiste, non è pronta, non sappiamo ancora di preciso quando e come verrà fatta, si fanno ogni tanto delle ipotesi, ma sono solo ipotesi, e comunque che non è il collegamento, evidentemente non essendoci, con la piastra logistica. La ferrovia che doveva avere il collegamento con la piastra logistica appena detta non c'è, il collegamento logicamente fluviale per ovvi motivi non c'è, l'unico collegamento che rimane è con la E45 in una situazione viaria che conosciamo e che non riusciamo a sistemare piena di buche, eccetera. C'è anche il dibattito lungo, si autostrada, non autostrada, si pedaggia, non pedaggia, la situazione comunque è sempre quella, la situazione è che non c'è un'arteria che funziona. E su tutto questo si fa una piastra logistica. Che dire? Credo che questi sono elementi che possano bastare per criticare in maniera pesante questa amministrazione. L'ultimo elemento, dopo notevoli battaglie è stata accettata la chiusura di Polisport, l'anno scorso che doveva essere chiusa a fine anno, al massimo doveva arrivare entro dicembre, ad oggi Polisport non è chiusa, continua a produrre debito. Polisport è una partecipata che gestisce gli impianti sportivi, che produce debito, che noi abbiamo chiesto più volte la chiusura, che è stata accettata e confermata la chiusura, perché è dimostrato che produce debito, centinaia di miliardi di euro di debito prodotto ai cittadini che hanno dovuto pagare con le tasse, finalmente è stata scelta la via della chiusura, bene ad oggi non si ha coraggio di farlo, forse per motivi politici, forse perché Polisport ha sempre rappresentato un bacino comunque di preferenze, non lo so il motivo, certamente non si è avuto il coraggio oggi di fare questo passo. Io ho sempre detto, certamente proteggendo i lavoratori a cui dovranno essere dati altri incarichi, non si deve licenziare nessuno, ma quel servizio che non funziona va chiuso, il servizio va chiuso. Penso che questi siano gli elementi principali che non hanno funzionato e penso che i cittadini possono riflettere se sono stati bravi o no i nostri amministratori. E a chi l'ha accusato nel corso di questi cinque anni di fare a volte, sottolineo a volte, la stampella della maggioranza, che cosa risponde? E soprattutto perché non è stata data maggior informazione su questioni di grande rilevanza come quelle che lei ha esposto poc'anzi? Allora, alla prima domanda rispondo. Io non sono mai stato stampella di nessuno. Sono libero politicamente, non sono nemmeno una stampella della mia parte politica, perché mi posso permettere, in quanto vivo del lavoro mio e non di politica, di poter dire quello che penso. Certo, sempre cercando di essere coerente alla mia parte politica, al centro-destra, e quindi, di conseguenza, se non sono stampella del mio partito o della parte che rappresento, non sono certamente, a maggior ragione, stampella di una maggioranza, che non condivido in moltissimi aspetti. Ma essendo persona libera e, credo, ragionevole, e avendo un ruolo di consigliere, consigliere significa consigliare, quindi dare consigli anche al sindaco e alla maggioranza, ogni tanto do dei consigli che vengono magari presi in considerazione, accettati. In quei casi, come per esempio, lo dico, dove sono stato d'accordo, dico un elemento per far capire su tutto, il nuovo cinema Città di Castello. Città di Castello ci siamo trovati senza cinema, l'amministrazione comunale ha proposto un'idea che era quella di prendere un edificio del comune e trasformarlo in cinema dietro pagamento all'amministrazione di denaro. Io ho detto sono favorevole, perché mi sembrava giusto dare un servizio alla città. Non per questo sono una stampella della maggioranza. A una cosa logica si risponde semplicemente sì, però controllo che le cose siano fatte in maniera adeguata. Questo è sottinteso. Quindi per far capire, se sotto questi aspetti mi si accusa di essere una stampella, beh, allora lo si fa logicamente per altri motivi. Oggi mi sembra di dire le cose molto chiaramente come stanno. Detto ciò, l'altra domanda era... E perché è stata data così poca informazione ad argomenti importanti? Allora, il problema dell'accesso. Noi, opposizione ormai da decenni, abbiamo difficoltà di arrivare alla stampa, arrivare al pubblico, se non per Facebook, per sistemi, diciamo, traversi che usano il metodo personale di intervento. Oppure da spazi liberi come il vostro che mi dà la possibilità di parlare. Purtroppo la stampa locale, non tutta, ma gran parte della stampa locale, non è libera o liberissima. Quindi, molte volte, anche interventi, piuttosto che uscite pubbliche, eccetera, vengono o non considerate in maniera adeguata, o cancellate, oppure molto anestetizzate. Quindi quello che esce sono solamente piccole frasi su magari discorsi molto più articolati. E questo è un grosso problema. Infatti vi devo ringraziare perché qui c'è la voce di tutti, e anche la nostra. Quindi più persona arriva, meglio è. E quindi è un problema di accesso. Noi per fare l'accesso bisogna spendere anche di persona, perché spesso per dire delle cose bisogna fare manifesti, bisogna pagare spazi, eccetera, e si va in tasca personalmente. Io ci vado in tasca personalmente. Altri, essendo partiti di apparato, magari usano il servizio pubblico, perché ci hanno comunque organi preposti a ufficio stampa che fanno uscire proprio dichiarazioni ufficiali. Tutto qua.